Fitusissimo però... però ci può stare No, devi mettere la testa Ah, ok, ok, ok Violet, Violet qua Ok È la minchia che skin è questa? L'ultima L'ultima, eh? Ok No, non è l'ultima Ah, sì, è l'ultima Va bene Quindi inizia questo game 1 Con subito le prime combine di casuglia che Sembra che Giacobbio abbia ben imparato Sbam, sbam e sbam letteralmente Sbam, sbam e sbam letteralmente Sbam, un bell'ottanta per cento Eeeh Ah, bellissimo Il porcone, il porcone Il classico del porcone, ok Sa bene come gioca questo personaggio Non mi posso dimenticare una volta che il porcone mi ha detto Quando tu giochi contro Giacob Lui ti farà sempre Mamma mia, comunque che cosa abbiamo visto Terribile Quando tu devi giocare contro Giacob Lui farà sempre il dodgin Quindi carica l'effet smash e lo ammazzi Ed effettivamente è stato così Comunque, eh Situazione di nuovo Situazione di nuovo Iven se vogliamo In realtà di nettissimo vantaggio Per per caso Che inizia a fare le sue combo Qua gli salta l'electric Prova qualcosa Che però non riesco bene a capire Che gli è portato sotto Oh Bellissimo Ah, peccato Peccato Ok, qua si Sì, anche se comunque appunto Sappiamo che è caso Ok, fighissimo Riuscito a leggere Però non è andato avanti Peccato Prova un app Perché è un po' troppo lontano E va beh Qua si prende la stock Chiaramente Con il Non mi ricordo che cazzo si chiama Beh, la chiameremo Common Grab Non mi ricordo Ma il podcone ha l'anticazio Il podcone ha l'anticazio Il segreto in casa Ah, ok Questa cosa non la sapevo Comunque Sto game Se lo stanno bevendo Praticamente Voglio dire Ma che ci fai qua Perché non ti sei iscritto Oh Il pazzo Yo Comunque Qua lo tiene Lo tiene bene all'edge Qui Anche se Ok Inizia Inizia le combine Sì Le prova È questo No Ma perché la droppa Non ha fatto a dropparla Poteva fare tutto Poteva fare Qua ci No, si Ok, ritorno Poteva fare letteralmente tutto Dai, io voglio vedere La Command Grab Figa Quella che ti Dà il calcio Sul Ma chi di Bylet No Dai Di Kazuya Ah, il ghezzo fello Ok Ok, ok, ok Qua provo un colpo di laser Che non Il porcone chiaramente Non si fa bene Ora ho pochi meglio atto Addirittura Chi Kazuya Ok Se lo prende a legge Sì Ok, ok Qua Eh, va bene Un mega calcio Un mega calcione Da dietro Ora, secondo me Ora, esce Esce l'anti Kazuya Dici Sì, ora ti faccio Dei chiese Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa fa il porcone Il porcone è così Un po' Un po' fazzo Non si apisce Ma Non fa mai sapere La sua next move Anche se Tenendo sto stage Forse Non lo so Che è sempre No, ok Tiene by Olda 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 Ma si deve Oldare To the moon To the moon Non siamo Non siamo Come si dice Ah, what the sigma Ah, what the sigma Ah, what the sigma Ma, vi prego Non iniziamo con queste cose Perché Io poi al posto Solo hai scioltato Potrei veramente Avresti? Scioltato Avresti scioltato Terribie, terribie Non siamo Questo non è Questi non sono consigli finanziari Comunque Non siamo Non siamo consulenti Comunque È un po' di ghiatti Bailet Comunque ce l'ha Se vogliamo essere sinceri Comunque Ma che fa qua? Iniziamo Ma solo in Ohio Secondo me Ecco Qua si prenderà Perché così Da un calcetto all'aria A dire tipo Io sono Io sono Casu Si è fatto tutto l'aria E ha sfidato In India Esatto Ragazzi vi prego Non commentiamo questo set Con il brain rot Perché è la fine Qua Prova giustamente Un Fsmash Perché se lo aspettava Solo che Casu Gli ha bing caso Gli ha preso E quindi Oh mio dio E fa pure la taunt Nah Terribie Terribie Giacco Terribie Qua Però ci stava Cioè Onestamente Una tauntina lì A fare quella roba lì A riflettare la freccia Ok È in Rage Drive Rage Drive Però Prova qua Ok Lo fa subito Ci può stare Secondo me l'ha sbagliato Ma guarda Non lo so Perché comunque Kill percent Il porcone può fare Qualsiasi cosa E infatti Cioè Avesse aspettato un po' Non avrebbe potuto fare Il Rage Drive Probabilmente Si prende un po' di danni Però con un Fsmash Così un po' esotico Bylet Inizia con le sue combine Che comunque Non fanno molto rispetto a Mamma mia L'aveva Voleva fare un hard read Ok Però Mi È stato cancellato Bediai Non lo so Si si Bediai 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 Si prende quest'altro Ora vediamo se Holda Secondo me non Holda Non holda più Siamo a Vende tutto Siamo a game 3 2 a 0 Vende tutto lo store Ora ti faccio vedere cosa Ce l'ha Eccolo qua Mamma mia Il personaggio più puzzolente del gioco Ma è quello che salverà la community Letteralmente Eccoci qua Ok Game 3 Sempre Casuglia contro Kirby Il porcone Ce l'ha Secondo me Gliel'ho gufata Si probabilmente Gliel'ho gufata Però vedi qua il mantra Che è È basso Si esatto Non gli può fare È basso Se croce Evita pure l'electric Che però si è preso In questo momento Un po' gridi qua Già qua Fare subito B Però Ok Qua leggela Mamma mia Prova un A B così Out of shield Che effettivamente Funziona Però Mamma mia Ok 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 Già block In 2F smash Non fa troppissimo Però Il suo Il suo certo danno Lo fa Eh vabbè Qua è morto Eh si Qua è morto Qua è morto Si prende un electric In 2A B Dopo 3A B Che ha fatto Che non hanno killato Dici Almeno quello ci sta Potrebbe Cioè io fossi nel porcone In questo momento Sucherei Casuia Perché è una buonissima Mossa Il laser Si Sucherei Casuia Perché è una buonissima Mossa Il laser In ledge trap E il porcone La saprebbe utilizzare Abbastanza bene Secondo me Intanto L'airage drive Casuia Non lo usa In questo momento Infatti lo perde Ma ok Non muore Pensavo di sì Però Ok Questo è un po' pesante Ma Non capisco perché si trattiene un attimo Giacomo dal fare le varie combine Forse vuole provare dei mix up Che però Non sembra che vadano Comunque contro il porcone Non si fa Non si fa spaventare Infatti con un bel Che cosa Nair No Nair Ok Nair che kill Incredibile Non lo sapevo Inizia le combine Che però droppa No ma il colpo è lo 6 Mamma mia di nuovo Ok 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 Infatti ho capito Il cattuto Di nuovo jab block In 2x smash Small battle Lo riprova però qua Giacomo se l'ha aspettato Ok Vedi che ha ripreso il vantaggio Sì 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 Qua ha provato la 2 frame L'aveva già provato una volta Però comunque non riesce È stato pesante Quei rage drive Che vediamo cosa prova Io avevo provato lì Un down B Occhio con le Occhio con il rage drive Qua ce l'aveva già Già in canna Com'è che non ha preso Questa cosa Non lo so Vabbè lo prende Ma come cazzo l'ha preso Cioè era lontanissimo Vabbè Giacomo un pochino Infatti si prende Quello che si merita Però comunque Non kill Anche qui poteva Poteva provare Un F smash No Terribile Ok 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 E siamo di nuovo In una situazione even Niente Qua Giacomo non Era Cioè il primo game Era strasolido Con le combo Qua ne sta droppando Un pochino Questa cosa non va bene Visto che Il porcone con Kirby Lo sappiamo tutti Quello che è Le tragedie Che combina Infatti 70-35 Non è una tragedia È una commedia È vero È vero È una commedia È veramente una gran commedia Se mi chiedi Niente Questi Questi due frame Non riescono a Che paura No Ok a posto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ecco vabbè Però ora c'è il rage driver Non ci vuole niente Deve stare molto attento Il porcone deve spaziarsi bene Infatti lo sta facendo Perché Oh Cosa è successo? Non l'ho capito Forse era Terribile Terribile ragazzi Terribile Se mi chiedi veramente Perché Perché non l'ha colpito? Ha fatto Non c'è la tua Cosa Non c'è la tua